Per i PM della DDA di Caltanissetta avrebbero favorito le organizzazioni mafiose del territorio custodendo armi che i carabinieri trovarono un anno fa in un casolare incontrata a Piana del Signore. E' stato aperto il dibattimento nei confronti del romeno 45enne Aurelian Badiou del marocchino 25enne Youssef Aroru. Entrambi braccianti agricoli dovranno rispondere alle accuse davanti al collegio penale del tribunale presieduto dal giudice Miriam D'Amore, all'atere Mari Camarino e Silvia Passanisi. Vennero arrestati insieme alla quarantenne Alessandro Antonuccio per gli inquirenti avrebbero avuto la disponibilità del casolare e delle armi. Antonuccio per questi fatti negli scorsi mesi è stato condannato a quattro anni di reclusione. Nei suoi confronti però è caduta la contestazione del metodo mafioso e anche quella relativa alla droga che i carabinieri trovarono nel corso delle perquisizioni. I PM della DDA avevano invece chiesto la condanna a 12 anni di detenzione. Durante i controlli sotto sequestro sono finite le armi e le munizioni oltre ad una pistola calibro 7,65 con matricola a brasa. I due imputati pare abbiano fatto perdere però le loro tracce violando le misure impostegli durante la fase delle indagini. In ogni caso verranno giudicati dal collegio e sono difesi dall'avvocato Luisa Campisi. L'accusa invece è sostenuta dalla PM della DDA Elena Caruso.